Una persona normale che è stato eletto dai cittadini, li rappresenta e che poi è amante della satira, ogni tanto fa delle vignette, le imitazioni, anche per spiegare più facilmente la politica e per non prendersi troppo sul serio. Questa è una politica che va spiegata con le vignette forse? Beh, diciamo che le vignette sono come un editoriale, però più facile da leggere e anche molto più breve.